Lei è l'amministratore unico dell'ente, responsabile che ha organizzato l'intero progetto. In cosa consiste questa iniziativa? Allora, Omnia Pro SRL è il quarto anno consecutivo che organizza il Job Edition. Il Job Edition è un evento che abbraccia a 360 gradi il mondo del lavoro, dove non va visto come un evento che dà solo la possibilità di creare un connubio tra domanda e offerta di lavoro. Il Job Edition è tanto altro, in quanto diamo la possibilità a tutti, magari anche i giovani, che so che hanno appena terminato il loro percorso di studi, di ottenere consulenze nella redazione di un curriculum vitae, dove ormai sappiamo che la maggior parte dei curriculum, quindi l'80% dei curriculum, il più delle volte, viene scartato perché non scritto nel giusto modo. In queste tre giornate organizziamo, oltre alla presenza fissa di stand, dove invitiamo le realtà aziendali del territorio, quelle realtà positive in grado di regalare grinta ai nostri giovani, organizziamo anche dei laboratori, dando delle indicazioni perché nel momento in cui entriamo in un'azienda, abbiamo sicuramente delle competenze tecnico-professionali acquisite, ma è necessario sviluppare le competenze relazionali, partendo proprio dal nostro modo di comunicare. Chiaramente la presenza di questo progetto dimostra che manca un ponte tra il mondo della formazione e quello del lavoro. Il centro commerciale Mongolfiera cerca di colmare questa lacuna? Non siamo così presuntosi, neanche così bravi. Noi ogni anno affrontiamo un progetto sociale e ogni anno fra i vari progetti sociali che trattiamo, diamo un minimo di attenzione al problema lavorativo. Ora, come dico sempre, in maniera anche petulante e repetitiva, il lavoro non è il nostro mestiere, noi facciamo altro, però cerchiamo di fare la nostra parte. Un'altra cosa che forse sarebbe importante aggiungere è che se tutte le aziende del bacino dedicassero anche soltanto una giornata a questo problema, forse qualcosina potremmo farla davvero.